Ciao a tutti voi da Rosi, appuntamento della nostra vetrina dell'auto e con la concessionaria DR Edevo, fratelli Meloni e siamo in compagnia di Moreno, Moreno Meloni. Ciao. Ciao Rosi, buonasera a tutti. Iniziamo con spiegarvi dove siamo, Rò, via pace al numero 70, tutte le autostrade targenziali, seguire le indicazioni, Mazzo di Rò, Fiera di Milano, e ci trovate sicuramente. Questa sera vi presentiamo tutta la gamma DR Edevo e tutte le promozioni che abbiamo in corso. Andiamo. Ecco, volevo iniziare a presentare la DR3, il SUV più piccolo di casa DR. È un SUV con linee quasi da coupé, con delle misure molto compatte, lunga solo 4,20 m e larga un metro e 76. Nonostante le dimensioni ridotte, ha una grande abitabilità interna, ideale sia per muoversi in città che nei lunghi trasferimenti autostradali. Adotto un motore rinnovato 1.5 benzina da 116 cavalli con la possibilità di avere la doppia alimentazione, benzina e benzina GPL. L'allestimento è molto completo. Tetto apribile, antifurto perimetrale e immobilizer, specchetti retrovisori regolabili elettricamente, sensori di parcheggio posteriori, 4 vetri elettrici, l'ABS, chiaramente, doppio airbag, cerchi in lega da 17, TPMS che è il monitoraggio della pressione dei pneumatici, cruise control, comandi radio al volante, telecamera posteriore, autoradio con USB e viva voce Bluetooth, il mirror link per i telefonini Android e Apple CarPlay, chiusura centralizzata col telecomando, servo sterzo, volante regolabile in altezza, il climatizzatore, gli indicatori di direzione sono integrati negli specchietti retrovisori, il computer di bordo, il sedile sdoppiato e gli attacchi Isofix per il seggiolino dei bambini. Il tutto a partire da soli 15.400 euro per la versione benzina, 1.000 euro in più per la versione a GPL. La garanzia su questa vettura è di 5 anni o 100.000 km. Vi voglio ricordare che anche su DR3 abbiamo la nostra promozione del tasso zero, per cui vi invitiamo a venire a vederla ed eventualmente a provarle, per cui 15.400 euro il prezzo di DR3. Ecco che mi sto avvicinando alla nuova DR5.0, vettura nuova per cui nata l'anno scorso con un motore 1.6 benzina da 116 cavalli e il cambio manuale con la possibilità della doppia alimentazione sempre benzina e benzina GPL. Da oggi è disponibile anche la versione col cambio automatico doppia frizione con il motore però 1.5 turbo da 154 cavalli. Anche DR5.0 ovviamente come da tradizione DR ha un allestimento molto ricco, per cui la vernice metallizzata è compresa nel prezzo, i cerchi in lega da 18, le luci diurne, i fari posteriori fumè a led, le barre longitudinali sul tetto, il sistema di scarico doppio, i sedili in ecopelle, il volante anch'esso in pelle, il sedile guida con la regolazione elettrica in 6 posizioni, schienale posteriore 60-40, bracciolo centrale, bracciolo posteriore, il climatizzatore automatico, la smart key, per cui la chiave elettronica non serve più infilarla nell'avviamento, il servo sterzo elettrico, l'ABS, l'ASP, la telecamera posteriore con i sensori di parcheggio, il cruise control, il monitoraggio della pressione dei pneumatici, i retrovisori esterni sono regolabili e riscaldati elettricamente, 4 vetri elettrici, lo schermo multifunzione LCD da 7 pollici, nel quadro strumenti, lo schermo touchscreen da 9 pollici più 4 autoparlanti, Apple CarPlay e mirroring screen per Android, chiaramente gli airbag, i vetri oscurati, l'antifurto immobilizzatore, comandi radio al volante. Il prezzo è quello che ci strabilia sempre, per cui solo 18.900 euro per la versione benzina e cambio manuale, 1.000 euro in più se vi interessa la versione con la doppia alimentazione e 21.900 euro per la versione cambio automatico benzina, sempre 1.000 euro per avere la doppia alimentazione. Anche DR 5.0 usufruisce dei 5 anni di garanzia o 100.000 km di serie e anche su 5.0 si può usufruire del nostro finanziamento che facciamo noi come concessionaria a tasso zero, per cui venite a trovarci e a provare anche 5.0. F35, ultima nata e modello di punta della DR, eccola qua, bellissima, grazie alle dimensioni di 4 metri e 47 centimetri e largo 1.83 m offre uno spazio ottimale per 5 persone. Il motore è un 1.5 turbo da 150 cavalli con la possibilità sempre della doppia alimentazione benzina e benzina GPL. Su F35 possiamo avere anche il cambio automatico, doppia frizione e 6 marce. Come tutti i modelli DR offre sempre una dotazione di serie molto molto ricca. La vernice metallizzata, unica casa nel panorama italiano che fornisce la vernice metallizzata di serie. Tetto apribile elettrico e panoramico, cerchi in lega da 19, fari anteriori di urni a led, doppio scarico, sedile in pelle, volante in pelle, sedile guida regolabile elettricamente, schienale posteriore 60-40, i braccioli anteriore e posteriore, climatizzatore automatico, la smart key per l'apertura e l'avviamento senza la chiave, servosterzo elettrico, ABS, airbag, EBD più SP, telecamera a 360 gradi per cui su tutti e quattro i lati, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control, il sensore della pressione dei pneumatici, gli specchietti di retrovisorio esterni regolabili e richiudibili elettricamente, lo schermo da 9 pollici per Android e Apple CarPlay, vetri posteriori privacy, antifurto immobilizzatore. Il prezzo è eccezionale, solo 23.900 euro per la versione benzina, 1.000 euro in più se la volete con la doppia alimentazione. Il cambio automatico ha un costo di 2.000 euro. Anche su F35 c'è la possibilità di usufruire del nostro finanziamento a tasso zero, per cui vi invito a venirla a vedere, venirla a provare, è una macchina secondo me da toccare. Adesso passerei la parola a Fabio per illustrarvi tutti i modelli Evo. Un buonasera anche da parte mia, io stasera vi presento la gamma Evo. Vorrei partire dalla Evo 3, la nuova arrivata di casa Evo. Una berlinetta lunga 4,13 metri, ma grazie ad un passo davvero generoso, internamente è un'auto davvero davvero spaziosa. Adotta un 1.500 benzina o benzina GPL, 4 cilindri da 113 cavalli. Come sempre tradizione Evo ha un allestimento davvero completo, che adesso andiamo a vederlo. Infatti abbiamo già di serie i vetri posteriori scuri, la verniciatura bicolor, la vernice metallizzata, i cerchi in lega da 17 pollici, l'antenna Shark, i fari alogeni con le luci diurne, fendinebbe anteriori e posteriori, i vetri elettrici anteriori e posteriori, gli specchietti elettrovisori esterni regolabili elettricamente e anche riscaldabili, volante multifunzione rivestito in pelle, il volante e il sedile regolabili in altezza, climatizzatore automatico, i sedili in ecopelle, il bracciolo centrale anteriore e posteriore, i sensori di pressione elettromatici, gli attacchi Isofix, l'antifurto immobilizer, ovviamente poi l'ABS, il sistema elettronico della forza frenante e della stabilità, l'assistente alla salita, i sensori di parcheggio anteriore e posteriori, retrocamera, l'infotainment con uno schermo touch da 9 pollici, abbiamo anche Apple CarPlay e Android Auto già di serie, via voce Bluetooth, presa USB anteriore e posteriore e cruise control. Pensate, tutto questo ha un prezzo per la versione a doperimentazione benzina GPL di 15.900 euro, ma se avete la macchina da rotamare, grazie agli incentivi statali, arriviamo ad un prezzo di 14.400 euro più IPT, quindi davvero, davvero un prezzo straordinario. Inoltre, solo da fratelli Meloni, avete la possibilità di finanziare la vettura fino a 10.000 euro a tasto zero per tre anni, quindi davvero un'offerta imperdibile, venite a trovarci. Ed eccomi arrivato al modello Evo 4, un SUV lungo 4,34 metri che ha dotto un motore 1.6 da 114 cavalli, 4 cilindri, sempre possibile con la doperimentazione benzina GPL. Come la nostra tradizione, anche la Evo 4 ha sempre una dotazione molto ricca di serie. Abbiamo vernice metallizzata, antifurto perimetrale immobilizer, tetto apribile elettrico, specchietti retrovisori regolabili e richiudibili e sbrinabili elettricamente, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, 4 vetri elettrici, l'ABS, 6 airbag, i cerchi in lega da 17, 4 telecamere anteriori, laterali e posteriori per una visione completa a 360 gradi quando parcheggiamo. I comandi radio a volante, l'autoradio con schermo touchscreen con USB e via voce Bluetooth, chiusura centralizzata con telecomando, Nintendo in pelle, servo sterzo elettrico, volante e sedile regolabili in altezza, climatizzatore automatico, luci di urna LED, il computer di bordo, gli attacchi Isofix e sedile posteriore abbattibili 60 e 40. Pensate, tutto questo per un prezzo di soli 16.900 euro per la versione a benzina o 1.000 euro in più per la versione a doppia alimentazione benzina GPL. Anche per Evo 4 abbiamo sempre la possibilità del finanziamento a tasso 0, 10.000 euro, oppure se volete fare senza anticipo abbiamo la possibilità di avere altri tipi di finanziamento con tassi molto agevolati. Ed ora passiamo al best seller di casa Evo, la nostra Evo 5, adotta un 1.6 benzina da 126 cavalli con la possibilità sempre della doppia alimentazione benzina GPL, un'auto davvero spaziosa a un prezzo davvero contenuto. Andiamo a vedere adesso tutto quello che ha dentro di serie. È dotata di vernice metallizzata già di serie, circa in lega da 17, ABS, servo sterzo, doppio airbag, climatizzatore automatico, ESP, cruise control, tetto apribile elettrico, gli interni misto pelle e tessuto, chiusura centralizzata col telecomando, all'autoradio con l'USB, Bluetooth, i comandi radio al volante, schermo touchscreen, il mirroring compatibile con il smartphone Android, sensori di parcheggio posteriori con la telecamera posteriore, le barre portatutto, la ruota di scorta di dimensioni normali e i fendinebbi anteriori e posteriori. Pensate, tutto questo per soli 14.900 euro la versione a benzina o 15.900 euro la versione a doppia alimentazione benzina GPL. Anche per Evo 5 valgono le stesse promozioni dei finanziamenti per Evo 4 e Evo 3, quindi parliamo di 10.000 euro a tasso zero in tre anni, oppure se volete finanziarla tutta con dei tassi sempre molto molto agevolati. La gamma Evo non è solo benzina o benzina GPL, ma è anche elettrica. Passiamo ora alla Evo 3, elettrica, appunto, che ha adotto un motore sincrono con una potenza di 116 gavalli e grazie a una batteria di 40 kWh permette un'autonomia tra i 250 e i 300 km. La vettura, anche se lunga 4,13 m, nonostante le emissioni esterne, è compatte e all'interno è davvero una grande abitabilità. L'allestimento, come sempre, è molto completo. Abbiamo il cerchio in lega 17 pollici, pacchetto color, la varnice metallizzata, telecamera a 360 gradi, sensori di parcheggio davanti e dietro, mirroring screen per l'Android, clima automatico, sensori di parcheggio posteriori e anteriori, infotainment touchscreen da 8 pollici, mirror screen per i telefonini Android, clima automatico, sedili in ecopelle, cruise control, volante in pelle con la funzione multifunzione, computer di bordo, la chiave intelligente, quadro strumenti digitale a LED a colori, l'antenna shark, bluetooth, la presa USB, i sedili anteriori riscaldabili, gruppi ottici posteriori a LED, l'accensione automatica delle luci, le luci diurna LED, i fendi nebbia, l'antifurto parimetrale, probabilmente ABS, EBD, ESP e controllo di trazione, l'avviso di acustico per i pedoni, il freno a mano elettronico, controllo di pressione pneumatici, doppio il bag interiore e gli attacchi ISOFIX. Tutto per un prezzo di 36.600 euro di listino, ma grazie agli incentivi statali e al nostro sconto, se avete la macchina da rotta mare, il prezzo scende a 26.160 euro, avete capito bene, 10.440 euro tra sconto i contributi dello Stato. Prima di chiudere volevo dire ancora due cose, chiaramente la nostra concessionaria ha l'officina a vostra disposizione per tagliandi di qualsiasi tipo di vettura, il magazzino ricambi, per cui è una concessionaria completa. Niente, vi aspettiamo a vedere le nostre auto, a provarle per fare un preventivo, quello che desiderate. Un saluto a tutti. Grazie mille Moreno, grazie a te Fabio e grazie a tutti voi per l'attenzione. Ciao!